Stadio Ghetto di Febo, Silvi Marina, è qui che il Pescara Calcio sta svolgendo le doppie sedute di allenamento precampionato e al termine della giornata di lavoro, summit tra il presidente Sebastiani e il DS delle Carri, il mercato in pieno fermento i tifosi attendono l'arrivo di qualche nome importante che vada a dare manforte a un gruppo giovane bocche cucite dallo staff tecnico, l'allenatore Zeman per il momento non rilascia dichiarazioni vuole mantenere la massima concentrazione all'interno del gruppo Il nome più caldo su cui si sta lavorando da giorni è quello di Daniel Sannipoli, centrocampista 23enne della Tina per cui non si sono ancora incontrate domanda e offerta il Pescara sta pressando per chiudere, ma per il gioco di Zeman serve almeno un altro centrocampista Il presidente Daniele Sebastiani nei giorni scorsi ha chiarito che finché sarà lui al timone del club farà il possibile per ottenere la promozione Serie B ma allo stesso tempo non ha fatto proclami per la prossima stagione al via il 3 settembre in casa contro la Juve Next Generation anzi ha fatto capire che non ci saranno eccessi sul mercato Il DS del Pescara Delicarri sta provando a trovare i profili giusti che consentono alla squadra di disputare un buon campionato che punti ai playoff ancora doppie sedute a Silvi e domenica pomeriggio allenamento congiunto alle 17.30 col notaresco Sugli spalti dello stadio di Silvi Marina molti supporter che ai nostri microfoni sono apparsi davvero fiduciosi sulla stagione che sarà del Pescara Da pescaresi è ovvio che si è tifosi, si è tifosi sempre sia quando la squadra perde o quando la squadra vince oppure quando la squadra retrocede si è sempre comunque tifosi, bisogna amare la propria squadra Quest'anno come la vede? La vedo abbastanza bene ma ci vuole tempo, ci vuole il tempo che la squadra si conosca si amalgami, incomincia a conoscere gli schemi che vuole Zeman con la pazienza e con la calma riusciremo a fare degli ottimi risultati Vedere gli allenamenti del maestro è sempre un piacere poi tanti giovani, tanto entusiasmo, tanta corsa quindi un pomeriggio piacevole, molto piacevole Sarà l'anno buono per il ritorno in Serie B? Ce lo auguriamo tutti